Buongiorno, buon sabato, buon sabato mattina, ben ritrovati, l'ultima rassegna stampa di questa settimana, occhio ai giornali come sempre puntualmente alle 7.30 tutte le mattine inizia insieme a voi la giornata e quindi insomma potete anche comunque consultare le notizie del giorno precedente sul nostro sito caricato oppure essere aggiornati con le nostre pagine Facebook Occhio alla Notizia e Fano TV, però partiamo subito con ordine prima di guardare i giornali che sono pronti come sempre il resto del Carlino e Corriere Adriatico nelle pagine locali, guardiamo le previsioni del tempo e anche il santo del giorno, allora vediamo il santo del giorno, oggi è sabato 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle a Bate, il sole è sorto alle 6.08 e tramonterà alle 20.05, allora guardiamo la situazione attuale in questo momento grazie alla postazione meteo che abbiamo qui sopra Fano TV, vediamo la temperatura in questo momento al suolo è di oltre 20 gradi con un'umidità che sfiora il 90%, insomma quindi vedete la temperatura percepita è superiore proprio in virtù dell'umidità presente, siamo a un percepito di 22 gradi, quindi in questa ora così presto di mattina sono 7.32, sono veramente tanti, pensiamo a che cosa andiamo incontro nell'arco della giornata, questo è il cielo come si presenta in questo momento e le temperature alte le abbiamo avvertite in questi giorni, le abbiamo avvertite in queste ultime ore, sono veramente alte e si è fatto risentire il caldo, il caldo affoso, umido e quindi insomma non di gran piacevolezza, vediamo le previsioni di oggi, come si presenta il tempo oggi e le prossime 48 ore, oggi è sereno o poco nuvoloso con debole attività cumuliforme nelle zone interne, le precipitazioni durante le ore centrali saranno brevi piovaschi però più che altro vedete sui rilievi appenninici dove anche l'intensità della colorazione delle nubi è indicativa, insomma, temperature in aumento nei valori massimi, vediamo domani domenica, compare un po' più di nuvolosità anche sulla costa però sereno, poco nuvoloso, l'attività cumuliforme si concentrerà maggiormente nelle zone interne, vedete anche possibilità di piovaschi e rovesci, temperature rimarranno stanzionarie in lieve aumento, forse i massimi. Vediamo come si presenta all'inizio della settimana, lunedì 22, cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti però nel settore centro settentrionale, vedete compare la simbologia della pioggia anche sulla costa e un po' su tutta la regione, anche nelle zone basse, delle basse marche, il segno dei temporali e qui insomma di precipitazioni intense anche e rovesci a carattere temporalesco. Questo è il tempo archiviato, passiamo ai giornali, vi faccio vedere subito, vi porto nella pagina di apertura del Corriere Adriatico, come sempre contiene un po' il menu di tutto quello che troverete nelle pagine seguenti. Tanti sono i lanci, i flash che vi danno in questa pagina, c'è naturalmente in testa un po' notizie di richiamo, entusiasmo per la festa granata in piazza Affano, poi un po' di gossip, c'è anche dell'enogastronomia e poi un panfilo apparso nelle vicinanze del porto di Pesaro che ha scatenato i selfie di tante persone, un panfilo di oltre 60 metri, però nel centro si parla di sicurezza stradale, strade più sicure perché insomma giro di vite della polstrada sugli spericolati alla guida. Allora come sempre fa il Corriere Adriatico ci sono dei focus all'interno delle pagine, le prime pagine che riguardano un po' in generale le marche e questa era la notizia, ve la faccio vedere subito, la task force contro l'altra velocità e i rischi della velocità elevata. Da lunedì a domenica controlli rafforzati della postrada su tutta la rete viaria marchigiana, autovelox e telelaser per prevenire il rischio di incidenti nell'ultima settimana di agosto, una settimana dal punto di vista del traffico molto calda diciamo così, non solo per le temperature del termometro, rientri, le fabbriche riaprono insomma c'è un movimento anche sulle strade importante, snocciolate un po' di cifre, nove vittime in aumento le vittime negli incidenti stradali delle marche da giugno, 862 multe, 14.710 i punti decurtati dalla polizia stradale sulle patenti da giugno a metà agosto sulle strade. insomma però ecco controlli intensificati proprio per assicurare anche la presenza degli agenti della postrada in strada anche come forma di deterrenza. Altro focus che è presente nel Corriere Adriatico sulle marche si parla di sfratti di abitazioni quindi insomma la piaga degli sfratti, nodo sfratti in 700 restano senza casa, nelle marche sono in aumento le richieste di liberazione delle abitazioni in affitto, sempre anche questo presente lo schemino riassuntivo di questo articolo che insomma focalizza questa evidenza nella regione Marche. Poi si parla di sanità però andiamo a Pesaro, Zingaretti, dall'addio a Marche Nord all'ospedale di Pesaro, l'addio del primario però scuote il sindaco che dice si sconta la mancata integrazione della sanità e insomma andrà in una struttura privata. Costantino Zingaretti lo avete qui nel riquadro. Da dicembre lascerà Marche Nord. Giovannelli dell'AST dice le professionalità vanno dove possono lavorare a pieno ritmo. E rimaniamo sempre nel Corriere Adriatico. L'addio a Claudia, la giovane donna, ragazza, vittima di quell'incidente stradale nelle prime ore della mattina, la settimana appunto qualche giorno fa, morta a vent'anni. L'addio, chi lo vorrà dare a lei per l'ultima volta lo potrà fare questa mattina nella chiesa di Cantiano della collegiata. Insomma appunto questo è l'epilogo di questa vicenda. I genitori hanno però consentito al prelievo di corne e di tessuti. Apriamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico. Il paese dei Balocchi che insomma è l'evento fanese in questi giorni, in questo fine settimana. Don Ciotti, lo conoscono tutti, personaggio di caratura nazionale, lotta contro le mafie, ha avviato, libera, quindi un percorso di tante persone su questo fronte. Bibbia è sotto scorta, perché oltre a lui c'era la sua notevole scorta al paese dei Balocchi. Insomma una vita scelta in questo senso per combattere le mafie. Ha inaugurato Don Luigi l'edizione numero 13 del paese dei Balocchi, però considerazioni forti, pesanti. L'Isola Felice non c'è più, dice le parole sono dure, droghe e ambiente, ci sono insomma su mafie, tante considerazioni che ha fatto dal palco e dice appunto e lancia un grido, una sferzata. E ora è che le istituzioni si svegliano. Appunto il fondatore di Libera passi avanti con la legge sugli ecoreati, ma c'è molto da fare. E' consegnata la fascia, consegna delle fasce dal suo predecessore, il cine reporter Rai di guerra, Sebastiano Fezza, che è insomma impegnato con i bambini della Siria, anche lui personaggio di carattura internazionale che ne ha viste tante e ora spende il suo tempo e si impegna in questo senso. Questa è la foto appunto così un po' riassuntiva di questo momento del paese dei Balocchi. Ancora su Fano, ritorniamo a parlare di questa, sulle pagine del Corriere Adriatico, di questa coppia che vive in auto, vivono in auto, casa di riposo però è stata negata. Continuano le disavventure della famiglia Cesaroni, costretta a cambiare parcheggio dal cimitero, a trasferirsi nel parcheggio del cimitero, da quello della caserma. La macchina è in panne e l'alloggio comunale sarebbe pronto ma non è disponibile perché in comune sono in ferie, quindi gli aspetti burocratici tardano a essere chiusi per questo nuovo momento della loro vita. Si parla di piste ciclabili che prendono forma, subito al via, quella di Viale Adriatico, l'assessore Fanesi dice che sarà pronta a settembre e poi lavoreremo sulla parallela a Lighieri. Dalla Valle del Cesano si parla di sanità e di un altro ospedale che, insomma, langue secondo gli amministratori in brutte acque, pergola nel cuore, accusa il PD. Quante bugie dalla regione, anche i medici se ne vanno e il reparto è quello di chirurgia che è senza pazienti e dicono appunto hanno smantellato il nostro ospedale. L'obiettivo è non avere i requisiti minimi per garantire il nosocomio. Queste le sue parole mettono tristezza i nostri cittadini che preferiscono ubbidire al partito. Questo è il virgolettato e le sue considerazioni. L'ultima pagina che vi faccio vedere del Corriere Adriatico è quella di Senigallia, Piazza Garibaldi. Eccola qua, insomma, nella foto ve la faccio vedere in tutta la sua bellezza. Veramente una piazza ridata con un aspetto tutto particolare, tutto diverso dal passato e incomincia ad animarsi, vedete, con dei tavolini. Insomma, potrebbe rappresentare davvero un punto focale della città, della spiaggia di Velluto. Appunto, in arrivo un bar. L'agenzia di viaggi e terre erranti studia un trasloco al porticato della Filanda. Insomma, dopo la ristrutturazione incomincia l'animazione di questo punto centrale di Senigallia. Cambiamo la testata, andiamo con quella del resto del Carlino. Anche qui, pagina di apertura dell'inserto Pesaro. In testa una notizia che sembra così quasi simpatica, ma in realtà non lo è. Nonna con bodyguard, anti-nipote, assunti dopo angherie e violenza. Siamo a Fano. E poi, buche addio. Speriamo, Flaminia, Pecchiese, Urbinate, Percolesi torneranno all'Anas. C'è un disperato bisogno di manutenzione. Vedete qui nella foto una buca veramente gigantesca. E un piccolo hashtag, un bel po' di buche. Questo è per richiamare gli hashtag che venivano fatti in tempi elettorali. Problemi eterni. Insomma, questo è il lancio, lo strillo del Carlino. Pesaro in primo piano, una battaglia da anni. Le ex strade statali, appunto, ritorneranno all'Anas. Venerdì verrà firmata la convenzione tra Ministero e Regione. Tante le buche e le situazioni da sistemare. Ecco, questa è la notizia che vi facevo vedere. Siamo a Fano. A Fano perché la signora in questione è una nonnina ottantenne fanese che si è vista costretta ad assoldare due guardie del corpo per difendersi dalle angherie del figlio della figlia. Un trentenne che lavorava in un esercizio pubblico. Terrorizzata questa nonnina da due pitbull che, insomma, per mesi l'hanno terrorizzata e allora, insomma, non sapendo come fare ha assoldato due bodyguard per cercare di vivere una vita normale e poi ottiene dal giudice l'allontanamento che ha problemi anche di deambulazione ha denunciato il comportamento violento e aggressivo del nipote arrivando anche ad assumere due guardie del corpo come vedete nella vignetta di Giombetti. Allora, anche altre notizie che riguardano Fano naturalmente nel resto del Carlino si parla nella pagina di apertura di turismo e di turismo un focus e una critica che viene rimossa dal presidente della Confcommercio Renzo Capecchi che coglie l'occasione per un bilancio della stagione turistica che si sta avviando alla sua conclusione ma Salomonica, la sua dichiarazione, è una gestione parrocchiale Capecchi di Confcommercio critica l'amministrazione e al sindaco manda questo messaggio un messaggio ripetuto, reiterato, abbastanza conosciuto due, gli asset sui quali si dovrebbe convergere Carnevale e Romanità che attendono un segnale e dice batta un colpo seri dove sono finite le sue proposte dopo tre estati deve passare ai fatti primo bilancio, i dati però sono discreti vedete qui due persone che insomma masticano di turismo e sono Luciano Cecchini, presidente degli alberghi consorziati e sotto Boris Rapa di Uniti per le Marche che è anche gli oltre che consigliere regionale un operatore del turismo ancora Don Ciotti che catalizza anche le pagine del resto del Carlino per la sua presenza al paese dei Balocchi lo vedete qui il ritratto con il geppetto della balena la balena di geppetto, il simbolo se vogliamo un po' del paese dei Balocchi con Michele Brocchini e con lei che ha fatto un po' da apripista a questo connubio tra il paese dei Balocchi e Don Ciotti ed è Maria Chiera la fondatrice dell'Ogi dell'Accoglienza eccola qui vedete Don Ciotti dice le mafie sono tornate però insieme si possono vincere si possono battere ultima pagina che vi faccio vedere è dal Fano che riguarda la Val Cesano nel resto del Carlino si parla anche qui di sanità e di Pergola appunto anche qui focus su questo aspetto chirurgia, reparto, vuoto così si smonta appunto l'ospedale dopo la fuga dei medici mancano naturalmente i numeri però una buona pagina una buona notizia anche arriva da Marotta il palazzetto dello sport torna a pieno regime quindi tutti gli amanti dello sport e di questo punto focale di Marotta per lo sport lo assicura l'assessore Catalani bene questa era l'ultima pagina queste erano le notizie principali poi naturalmente comprando il giornale e i giornali potrete approfondire e leggere tutti gli articoli grazie per essere stati in nostra compagnia Occhio Giornali torna lunedì mattina sempre naturalmente puntualmente alle 7.30 per iniziare insieme a voi la giornata grazie per essere stati con noi e quindi non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana a tutti voi grazie a tutti 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 Grazie a tutti.